Cosa fare con quei 5 chili extra? È un po' tosta la situazione. Tra l'altro il sacco a pelo sta andando a male, non è la parola giusta, però si sta consumando. E io inizierei da rimuovere questo chilo. Allora facciamo così, indossiamo questo, rimuoviamo anche l'altro, recuperiamo anche l'altro, così ci rimuoviamo un altro chilo in più. Azioni, no, ripara, spreco quei due panni e mi incazzo a morte. Raccogliamo questi panni, no, innanzitutto no, fa troppo buio, sta per fare buio, quindi se ci impiego un'ora e mezza, poi la riparazione quanto ci mette? Azioni ripara? 54 minuti, non so se mi basta il tempo. Non so se mi basta il tempo. Direi di provare a riparare questo e poi riesco a recuperare il giaccone meglio. Proviamo a ripararlo. Quanto mi ripara? 35%, è pochetto però. Non che io abbia molt'altra scelta. Ok, 35, quindi adesso dovrebbe essere già meglio della giacca. No, è uguale alla giacca normale, cioè porca miseria, deve essere per forza 100% per darmi il vantaggio. Azioni, raccogli. Raccogliamo per un'ora e mezza. Vedo che ho sete. Quindi direi di mangiare. Perfetto. Così durante la notte non dovrei avere problemi. Ok, poi ripariamo di nuovo questo, sempre che non mi dica, è troppo buio, non ci vedo. Dai che ce la fai? Ok, ce l'ha fatta, perfetto. Quindi abbiamo riparato questo, 99% e ci dà 2,5% in confronto ai due dell'altro. È tecnicamente il giaccone umano, diciamo artigianale, migliore che riusciamo a trovare in questa modalità interloper. Quindi ne valsa la pena andare in quella regione del cacchio. Adesso mettiamo... Dove cavolo è? Sacco a pelo, se riesco... Verde, ver, 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 ver... Dai che mi sta venendo un attacco epilettico! Allora, dormiamo quanto... La sete è a posto. Sapete cosa? Bevo tutto. La sete è a posto un corno. Bevo tutto. Poi, e tra l'altro l'abbandono questo arco e recupero quello migliore. Devo ricordarmelo. Lascia l'arco e recupera quello migliore. Lascia l'arco e recupera quello migliore. Al risveglio. Perché questo è il 18%, ma mi ricordo che ne avevo craftato un altro che era comunque al 100%. 100% no, perché per sbaglio l'ho usato un paio di volte. Per l'altro l'ho usato, tra l'altro, è vero. Quindi dormiamo altre tre ore. Se riusciamo magari a intravedere un po' di luce. Visto che è buio pesto. No, è ancora buio. Raccogli. Inventario. Direi di... Mangiare di nuovo. Vabbè, perfetto. Mangiamo l'alce che c'è fuori, allora. Ok. Sono fuori. Adesso... Avevo lasciato qui della carne di cervo. Mangiamola. Ok. Eh no, non... Hai bisogno di una bevanda? Te la diamo subito, ragazzo. Te la diamo sub... Ho bevuto tutte le bevande. Beviamo tutta la summit soda? Mezzo chilo, mezzo chilo. Cioè 0,25, 0,25 in totale fa mezzo chilo. No, sto sprecando le calorie. Oh, Gesù. Vabbè. Non importa. Non importa. Ci avrei dovuto pensare prima. Eh sì, sono quelle abitudini che si perdono. Basta smettere di giocare un po' e queste abitudini sane, del tipo controllare le varie cose. Perché può fare la differenza, credetemi, però... Sono ancora mezzo addormentato. Dovrò spendere il tempo a fare cosa? Inventario. Non ho niente da fare. Cioè non posso riparare perché è troppo buio. Posso affilare l'accetta? Beh sì. Affiliamo l'accetta. Cinque minuti, no. Cinque minuti ci metto una vita. No, un fuoco. Passa il tempo. Passa il tempo, passiamo un'ora. Magari fa un po' di luce. No. Il corno. Passa il tempo di nuovo. Dai, fai sul serio? Ce la faccio. Ok, ce l'ho fatta. Ok. Adesso dovrei essere a posto. Dovrei riuscire a vedere nella grotta e riuscire a trovare il mio cavolo di arco. Ok, ci vedo. Lasciamo l'arco rotto. Lascia. L'altro dov'è? Dovrebbe essere qui. Dovrebbe essere qui per forza. Deve essere qui. Mi ricordo. Dai zitto. Arco di fortuna. 96%. Eccolo qui. Bottiglia d'acqua. Un litro di bottiglia d'acqua. Un litro di bottiglia d'acqua. Oh, Gesù. Quanto sono demente. Un litro di bottiglia d'acqua. Ai, 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 ai. Mi vergogno da so... Cioè, è proprio una vergogna. Un litro di bottiglia d'acqua. Non si può essere così ritardato. Dio mio. Un litro di bottiglia d'acqua. E non so che fare. Porca miseria. Questa mi serve. Devo liberarmi di due chili, ma non so che cosa fare. Cioè, non c'è niente. Innanzitutto ripariamo il cappello. 0,5. No, dai. Ripariamo questi. Questi pantaloncini. Questi calzoni. Perché se fallisci ripicchio. Perfetto. Adesso questo è... Vabbè, abbiamo guadagnato 0,4. Adesso abbiamo 22 di bonus calore. Vediamo come si è messi fuori. Se non fa troppo freddo, inizio a muovermi verso... Non fa troppo freddo, allora. Controllo di nuovo l'inventario. Tutto, che ho tutto. Dai, due chili extra non dovrebbero darmi troppo i problemi. Comunque, abbastanza cibo. Abbastanza più o meno, cioè... Ho cibo. Ho i cracker, ho le barrette di cioccolato. Ho tanto caffè. Cioè, effettivamente dovrei utilizzare tutto questo caffè. Tisana. Sì, dai. Sono a posto. Quindi posso iniziare... Eh, questo vorrei che... Se si cassa, così mi faccio lo zainetto. Però... Spendere qui... Con quanto? 36% su 10 giorni vuol dire che sono passati circa 3,3 giorni. Quindi devo aspettare ancora una settimana qui... A campare come una bestia. Posso farlo, effettivamente. Posso farlo. Forse è quello che farò. Perché 5 chili da portarmi dietro sono davvero pesanti, sì. Facciamo così. Sì, facciamo così. Aspettiamo che si essicchi la pelle d'alce. E poi proseguiremo per la nostra avventura verso... Verso Forno Musking. L'idea quale sarebbe adesso? Più che altro fa un po' tanto freddo. Meno 15. L'idea sarebbe di... Sento un lupo. Ah, no, era il cerco. L'idea sarebbe di spostarmi verso la città. O comunque stare al coperto. Spostarmi verso la città e raccogliere dentro le varie case... Le tende. Strappare le tende e raccogliere dei tessuti così mi riparo tutto l'equipaggiamento... Tutti i vestiti. Eh, le aggressioni dei lupi mi hanno fatto piuttosto male. E poi andrò a cercare... Verso le altre regioni oggetti importanti. Questa è un'area popolata da lupi. Mi ho uccisi tipo tre, da qualche ricordo. Ma non mi ricordo quanto tempo fa. Quindi potrebbe... Quel tronco mi è sembrato un lupo. Porca miseria. Non mi ricordo quanto tempo fa ho ucciso i lupi. Quindi... Tecnicamente potrebbero essere già respawnati. Forse non dovrei correre quando... Non ho... Una visibilità così alta. Delle angolazioni. Ok. Direi che camminando di qui... Lì c'era la chiesa, qualcosa del genere. E lì c'era la città, se non sbaglio. Se non sbaglio. Sì, sì, è la zona giusta. Come zona boscosa. Zona disboscata volevi intender... Cioè, magari intendevi. A me sembra abbastanza disboscata, non boscosa. Ma chi sono io per insegnare l'italiano questi traduttori? Da quattro soldi. Guardate, onestamente se mi dessero 5 euro... Io traduco tutto il gioco per loro, gratuitamente. Per 5 euro... Il mio falegname facebbe meglio. Per 30 euro. Oh, il lupo si è spaventato per il mio cappotto. È sempre bello quando succede. È sempre bello quando succede. Quindi c'è un lupetto qui. Iniziamo ad entrare nelle varie case e cercare delle tende. Di nuovo ti muovi verso di me. Ah, no, stavolta non hai più paura. Adesso ho capito che lui non deve aver paura. Sai che cosi cosi ti ammazzo? Cioè, ho proprio quella voglia di ammazzarti. Ho proprio quelle... Quell'invito. Quel desiderio. Però, non so se vale una freccia. Considerando che... Non ho molta fame. Cioè, non è questione di fame. Considerando che... Non mi interessa uccidere i lupi adesso. Dai! Oddio, se rimango intrappolato, devo per forza affrontare. Ok, non sono rimasto intrappolato. Perfetto. Corri, Paul, corri! Che Bao Bao ci mangia! Adesso siamo tornati nella casa di Grey Mother. Dove intendo cercare le più tende possibili. E strapparle. Ok, raccogli. Con le mani. Con le mani, con le mani. Ciao, ciao. Allora. Abbiamo sei... Non usare il coltello. Il problema è che quando utilizziamo il coltello per queste cose, consuma il 3% del coltello. È una cosa... Stupida. Consuma il 3% del coltello. Cioè, è troppo. Quindi a sto punto preferisco utilizzare più calorie. Perché non vale quel 3%. Io capisco. Magari per una carcassa consumi il 3%, il 5%, il... 10% proprio. Però per un cavolo di... Per una tenda non puoi consumare il 3%. Chi ci vuole a tagliare una tenda con un coltello improvvisato? Dai. Ma questo è qualsiasi coltello e non per forza quello improvvisato. Tutti i coltelli. Tutte le armi affilate. Così come l'accetta improvvisata. Comunque, l'accetta improvvisata, per esempio, contro un tronco, capisci. Dici, è ok, contro un tronco è duro, si consuma il 3%. Ma non dirmi che con una tenda un coltello si consuma il 3%. Dai. Io ho un coltello... Ho un coltello da quando sono bambino. Lo stesso coltello ancora lo sto utilizzando. E taglia benissimo. E tu mi stai dire che tagliando delle tende ti consuma il 3%. Su via, dai. Ripara. Oppure io sono un fabbro bravissimo che utilizzando la cota riesco ad affilare benissimo il coltello. Può essere anche quello. Anche se ne dubito fortemente. Perché nella mia famiglia nessuno è mai stato un fabbro. Da quel che so io. Se ogni ripara, ripara. 60 minuti. Cioè 54 minuti sono tanti per una riparazione, Frank. Non dirmi che adesso hai troppa seta per riparare, se no mi arrabbio. Mi arrapo. Cibo, cibo, cibo. Come sono messo col cibo? Ah, ancora questo. A posto. Abbiamo tutta l'acqua, tanto. Tanto, tanto. Tanto, tanto. Tanto. La stiancia la dovrei abbandonare. Cioè, almeno... Perché pesa mezzo chilo. Dovrei lasciarne almeno 5. Cioè, vi rendete conto che... Un, due, tre, quattro steli di stiancia. Quindi 0,20. Danno le stesse calorie di... Di fagioli con maiale. Io ne dubito fortemente. Dovrebbero un po' rivederle queste calorie. O almeno le calorie della stiancia dovrebbero nerfarle. Sì, va molto... Probabilmente tutta la community di The Long Dark mi odierebbe per questa cosa. Che dico che la stiancia dà letteralmente troppo... Troppe calorie. 150 è troppo, comunque. Per il peso. Non è giusto che comunque abbia un rapporto... Come dire... Un apporto nutrizionale così elevato rispetto a tutti gli altri cibi. Cioè, per esempio, una barretta al cioccolato. Che tecnicamente zucchero e cioccolato. Dai! 0,10. Col peso di due stiance. Due stelo di stiancia. Hanno lo stesso... Hanno più apporto calorico di una barretta di cioccolato alle noci. Alle noci! Noci! Che sono grassi, importanti. Eh, vabbè. Oppure delle patatine. Cioè, hanno le... Due di questi hanno... Con lo stesso peso hanno lo stesso apporto calorico di... Delle patatine. Secondo me è una cosa un po'... Errata. Però... Il cracker ha senso, comunque. 600 calorie. Comunque tutto amido e... Carboidrati ci sta. Però, fagioli con maiale... Io darei almeno... Almeno una porzione così. Almeno una porzione così, direi... 900. Meno 900 calorie. Ripariamo sti calzini. 40 minuti. Vai sul serio. Ripariamo anche questo. Anche questi. Tanto, alla fine... In qualche modo dovrò perderlo il tempo, no? Quindi, ripariamo tutto a sto punto. Non riparerò il 2% di questa giacca, però... Diciamo che almeno questo. 0,1 gradi. Questo 0,3. Quindi ripariamo anche questo. E' strano che non sta ancora... Non ha fallito neanche una volta. Ho fatto tantissime riparazioni con l'85% e neanche una è fallita. E' incredibile. Mi sta andando alla stragrande. Adesso, a meno che non mi aggredisca un lupo, dovrei stare bene, no? Dovrei. Potrei riparare anche questi calzini, ora che ci penso. Sì, dai. Ripariamo anche questi calzini. Tanto è un 24%. Ora fallisce, per forza. Non ha fallito. Incredibile. Ok, sono a posto. Ah no, è vero. Ripariamo il sacco a pelo? Assolutamente sì. Almeno due riparazioni devo fare del sacco a pelo. Cerca di non fallire, perché sennò mi consumi due panni. E sarebbe molto grave. Potevi fallire col calzini, ma non mi fallire qua. Neanche un fallimento. È incredibile. Neanche un fallimento. Cos'è tutta sta fortuna? Cos'è tutta questa fortuna? 8,33 chili indossati di vestiti. Eh, sono un po' tanti. Bonus calore solo 23. È troppo poco, dai. Con tutta l'orba che ho raccolto. Un pelliccio di lupo e tutto. È solo così poco. Poi tecnicamente vorrei anche tornare a... Cosa? Come cavolo si chiama la città? A Mystery Lake per rifarmi... Per farmi il cappotto di orso e metterlo al posto di quello di lupo. Perché? Non lo metterò al posto della giacca canadese perché... 3 chili più 5 chili. Quello di orso pesa 5 chili. 5 chili è tantissimo. Quindi 3 più 5 sarebbe 8. No. Eh, cioè... Ci starebbe, però... Poi rinuncio anche a tanta corsa. Mi sa... Mi sa di idea molto stupida. Però... Sarebbe un sacrificio in cambio del calore. Perché comunque quello di orso, se non sbaglio, dà 5 gradi. Quindi sarebbe 2,5 in più. Però... Non so quanto ne valga la pena, onestamente. Adesso che devo fare io? Torno alla mia grotta, penso. Direi di tornare alla mia grotta, sempre che non mi... Noi innanzitutto raccogliamo un altro... I panni mi servono. Cioè, da quel che ho notato ne sto tendendo troppo pochi. Almeno 3 mi servono. Non si sa mai. Il sacco a pello è riparato. Quindi, tecnicamente, non dovrei avere troppi problemi. Quant'è? 96%. Vediamo fuori come siamo messi. Se non fa troppo freddo, se non c'è una bufera, inizio a... Ritorno verso la grotta. 6 gradi. Perfetto. Allora... Con 6 gradi direi... Eh, la stanchezza che mi preoccupa, in realtà. Vediamo. Sì, la stanchezza mi preoccupa un po', però dovrei farcela. Adesso, torniamo alla grotta. C'era un lupetto qui, quindi devo fare attenzione, perché se mi... Se mi attacca il lupo... Tecnicamente buttò nel cesso tutte le riparazioni che ho appena fatto. Dove potrebbe essere? Era qui nei paraggi. L'ho sentito? Dov'è? L'ho sentito aggredirmi. L'ho sentito caricarmi. Dov'è? Dove? Dove sei? Ah, eccolo qui. Allora... Manovra evasiva 51. Numero casualmente inventato, nome della tattica casualmente inventata pure. Allora, tecnicamente mi basta... No, no, non devo correre, perché mi devo tenere lo stamina per evitarlo, il bastardo. E adesso risalirò di là, perché tanto lui adesso dovrebbe correre, visto che mi ha perso di vista. Invece no. Oh! Non mi bloccare la strada. Dio mio. Sempre che me ne becco un altro davanti, cioè, lì, lì sarebbe veramente il colmo. Mi becco anche un lupo davanti e sono a posto. Perché tecnicamente è una zona di spawn di lupi. Qui, avanti. A meno che non mi spacchi una caviglia. Quel tronco mi sembrava per un attimo un lupo. Però alla fine non era un lupo. Dovresti mai detto? Ok, un giorno l'ho perso, quindi devo perdere altri sei giorni. Oh! Che sei Schumacher! Fermo! Ferrari, fermo! Oh, Gesù. Ma sì, tanto non mi prenderai mai. Non mi prenderai mai vivo. Ma non credo sia tua intenzione prendermi vivo. Mmm. Mi sta ancora seguendo? La canzoncina c'è. Quindi tecnicamente mi sta ancora seguendo. Perché lo sento lì? Lo sento lì sulla destra. Come mai? Come mai? Che strada hai fatto, Frank? Solo lui lo sa... No, no, no. Tu non mi toccherai i conigli. Non mi toccherai i conigli. Quindi... Fatti sotto. Fatti sotto, bro. No, c'è ripensato. Pensavo mi caricasse. Coniglio! Scappa, Frank! Scappa, Bugs! Ok, se n'è andato. No, sta per caricare il coniglietto. Eh, mi dispiace, Frank. Ho provato... No, ce l'ha con me, ce l'ha con me. A posto, a posto. Seguimi, seguimi. Io che strada... Che cavolo di strada sto facendo? Io mi sono rimbambito. Mi sa che mi sono rimbambito forte. Uno, due. Perché la dovrò cucinare. Quindi entriamo dentro. Anzi, no, intanto no. Lasciamola giù. Ah, si è fatto fuori un coniglio. L'ho appena sentito. Ho sentito l'omicidio. Povero coniglietto. Ti ricorderemo per sempre. Finché non respawnerà tuo figlio. Comunque, gente, diciamo, direi che abbiamo fatto abbastanza strada per l'episodio di oggi. Quindi, salutiamoci qui per ora. Grazie per avermi guardato. Mi auguro di vedermi nella prossima puntata. Ricordatevi di lasciare un commento, un like, magari iscrivervi al canale e condividere con i vostri amici. Vi auguro una bellissima serata, eh. Bella Bella.